Ok? Respira, fa un respiro e rilassati. Ancora, respira, quando sei nervoso, prendi aria, mantieni un po' l'aria, i polmoni e poi diri fuori l'aria. Calma, calma. Lavora mentalmente sul discorso positivo, togli questi dialoghi negativi che c'è nella testa. Cambiati, focalizzati su quello che devi fare, focalizzati su quello che devi fare, non c'entra niente quello che c'era prima, esterno, le cose esterne, sei focalizzato su quello che devi fare, impara a focalizzarti, che è la cosa più importante. Se no, non puoi diventare un giocatore, perché prima bisogna essere forti mentalmente e poi dopo viene tutto il resto, hai grandi qualità, ma se non migliori l'aspetto mentale, non vai da nessuna parte. Ok? Quindi, adesso, focalizzati su quello che devi fare, come devi calciare, come devi condurre tanto, e adesso, via, tuttalo via. Le ritosse negative, le cose che ti distraggono, che ti tolgono l'energia, via. Ok? Vai, ripeti. Grazie.